Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca, furti in abitazione anche nel giorno di Capodanno a Udine in un appartamento di via Cunio. I malviventi hanno rovistato in tutte le stanze, hanno rubato i due salvadonai contenenti risparmi dei bambini. Moneta e carta moneta e danni ammontano complessivamente a 1000 euro. Sei furti a Campoformido, sempre in casa, da un'abitazione, sono spariti beni per 6000 euro e dagli altri 5 alloggi sono stati rubati oro e soldi per circa 10.000 euro. Colpo infine in un appartamento di Udine dove i ladri hanno asportato gioielli preziosi in oro per un valore di 15.000 euro, indagano i carabinieri. Incendio nel primo pomeriggio del giorno di Capodanno nel quartiere San Rocco a Udine, poco dopo le 15.000, è stata vista levarsi la prima colonna di fumo che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti due mezzi di vigile fuoco del comando del capologo Friulano che hanno domato le fiamme. L'incendio ha ridotto in cenere una parte di una tettoia tra via Baracche e via Otto Bonon. L'alta colonna di fumo nero che si è sviluppata a San Rocco, visibile a diversi chilometri di distanza, ha allarmato la comunità ma nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso di accertamento. In un'intervista il presidente del Consiglio regionale del Friulio Venezia Giulia, per Mauro Zarin, tracciando un bilancio dei primi mesi di attività svolta, anticipa gli impegni del Consiglio e dell'amministrazione regionale per il 2019. L'ospicio è quello di una regione più giusta, più sicura e più solidale. Proseguiamo e andremo a vedere più tardi l'intervista al presidente del Consiglio regionale. Intanto, per augurarvi un buon inizio d'anno, abbiamo immortalato l'ultimo tramonto del 2018. Spettacolare per i suoi colori, da un punto d'osservazione del tutto particolare, il campanile della Basilica di Sant'Ufemia, a grado. L'ultimo tramonto dell'anno, si sa, ha un gusto totalmente diverso e particolare. E quello che ha accompagnato il saluto al 2018 lo è stato ancora di più, grazie alla magia di colori e luci che lo hanno reso ancora più unico e romantico. Così, in tantissimi hanno immortalato questo momento da numerose angolature e con cornici naturali da sogno. Ma le nostre telecamere hanno avuto il privilegio di salire sul campanile della Patriarcale Basilica di Sant'Ufemia, a grado, e da lassù godere di un tramonto, se non perfetto, quasi al limite dell'unicità, con il sole che a cerchio perfetto si è calato lentamente sul mare, in modo del tutto perpendicolare. La calma dell'acqua e il mormorio lento delle onde hanno reso le sfumature azzurre e arancioni più nitide e soavi. Così il 2018 lentamente se ne va, lasciando spazio al nuovo anno con un tocco di acquarello degno della mano di un grande artista. La gubana più grande del mondo, golosissimo dolce realizzato dal panificio Catrosi di Civea del Friuli, pesa 102 kg, oltrepassata la soglia del quintale per un record che ha raggiunto il suo quattordicesimo anno consecutivo. Ci sono voluti due giorni di lavoro al maestro pasticcere Berto Blasutti e al suo staff del panificio Catrosi di Civea del Friuli per preparare la gubana da record. Utilizzati 40 kg di farina, una settantina di uova, 15 kg di zucchero, 3 di burro, mezzo chilo di lievito, mezzo litro di grappa e una cinquantina di chili tra noci, mandorle, uvette e amaretti per ripieno. Stesura della pasta, farcitura e arrotolamento hanno richiesto un paio d'ore e altre tre ore e mezza sono state necessarie per la cottura e ottenere 102 kg di dolce, 4 in più rispetto allo scorso anno. Ghine sbattuto e grande festa. A Cividale del Friuli sotto la loggia del Caffè San Marco. Per creare ogni anno un inizio d'anno dolce all'insegna di questo dolce che rappresenta il nostro territorio e le valli del Nattisone. Grazie a voi tutti che siete presenti. Noi come amministrazione comunale cerchiamo di rinnovarci sempre e di offrire al nostro pubblico eventi culturali che rispettino la tradizione del territorio e siamo sempre felici di riuscire a incontrare i vostri gusti. E in chiusura della giornata è stato annunciato lo sfidante della specialità dolciaria di casa nella gubana dei premio Bepi Tosolini 2019, in programma per febbraio. A contendere lo scettolo alla regina delle valli sarà il pane di San Siro, tipicità di pavia scelta per la ricorrenza del 1450esimo anniversario della nascita del Regno Logobardo in Italia, da cui la città lombarda fu capitale e cividale primo ducato. E ora siamo pronti per ascoltare l'intervista del Presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin, che traccia un bilancio dei primi mesi di attività svolta. Il 2018 è stato l'anno dei tre presidenti. Al Presidente Franco Jacopo, che ha concluso l'undicesima legislatura, nella metà dell'anno è succeduto l'amico Presidente Ettore Romoli, che ha inaugurato la dodicesima legislatura del Presidente del Consiglio regionale. Purtroppo, come sapete, è venuto a mancare dopo alcune settimane di lavoro e a lui va il ringraziamento, il ricordo commosso, oltre che mio, dell'intero Consiglio regionale. Dopo, nel mese di luglio, sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale, carica che non mi aspettavo e che però ho cercato di svolgere, in questi primi mesi di legislatura, con spirito di servizio, cercando di interpretare tutti gli aspetti di quest'Aula così variegata e così anche importante dal punto di vista del futuro della nostra Regione. I primi atti che abbiamo svolto in Consiglio regionale si sono rivolti essenzialmente verso un sentimento di pace, recuperare quella convivenza, quella collaborazione tra le comunità, che è fondamentale per il progresso delle nostre famiglie. Ritengo che proprio la comunità regionale possa rappresentare, anche negli anni a venire, un elemento di riferimento essenziale per il rilancio di un concetto di Europa che negli ultimi anni è andato in crisi. Io credo che la risposta a questa crisi europea sia essenzialmente non la chiusura entro gli Stati nazionali, ma debba essere invece la collaborazione tra le comunità regionali, sia del nostro Paese ma anche degli Stati limitrofi. Oltre a questa idea, questo auspicio di Europa delle Regioni e delle Comunità, abbiamo legiferato sulla sanità, ridisegnando una governance che riteniamo più a dimensione di cittadini e di famiglie, una governance della sanità che cerchi di rispondere direttamente ai bisogni primari di salute dei nostri concittadini. Abbiamo fatto una legge finanziaria che ha tre principi fondamentali che la governano. La prima è un contributo alle famiglie come elemento fondamentale della convivenza civile nella nostra Regione, puntando al sostegno ai figli attraverso i contributi per i secondi figli nell'esilo nido, contributi per il trasporto scolastico. Abbiamo anche impostato una forte risorsa destinate agli enti locali, ai nostri comuni, perché sono l'elemento fondamentale del tessuto della nostra Regione, del tessuto istituzionale. Abbiamo messo decine di milioni finalizzati proprio agli investimenti per far ripartire anche la macchina dei lavori, delle piccole aziende artigiane della nostra Regione. Infine siamo intervenuti con l'abbattimento delle tasse sul lavoro. Abbiamo tagliato l'IRAP, abbiamo fatto una serie di interventi che dovranno agevolare il lavoro che è la vera sfida per il futuro, perché il lavoro è connaturato direttamente con la dignità delle persone. Abbiamo concluso il 2018 con la riforma degli enti locali, abbiamo reso le unioni territoriali intercomunali facoltative e ci siamo assunti un impegno sul 2019 per ridisegnare un ente di area vasta al quale consegnare anche parte delle competenze della Regione per far sì che le scelte siano sempre più prese vicino ai cittadini in quel principio di sussidiarietà che dovrebbe e deve, secondo me, governare le istituzioni non solo di questa Regione. Diciamo la speranza per il 2019. La speranza è riuscire ad avere con lo Stato dei rapporti che consentono alle risorse del Sineccio Giurale di rimanere nella nostra Regione e controllate dai nostri concittadini proprio nel loro utilizzo. E crediamo che in questo la Giunta regionale dovrà svolgere un grande ruolo. E allora il 2019 vorrei io, da Presidente del Consiglio regionale, interpretando, credo, e anche il pensiero dei miei colleghi consiglieri, una Regione più giusta, una Regione più sicura, una Regione più solidale. E questo è l'augurio che faccio per me e per i consiglieri per il 2019. E siamo allo Sport. Domani aprirà ufficialmente il calcio in mercato e già attorno all'Udinese si scatenano le prime voci in entrata e in uscita. Tra i volti nuovi accostati alla società bianconera, soprattutto quelli di attaccanti e centrocampisti. Sentiamo quali nel servizio di Monica Tosolini. Mentre i giocatori sono impegnati a godersi la settimana di vacanza, la dirigenza bianconera è già al lavoro per la finestra di mercato che aprirà ufficialmente domani. Nonostante le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica, Daniele Pradè, che a più riprese ha ribadito che il primo obiettivo è quello del recupero degli infortunati, proprio l'incertezza sui tempi per avere a disposizione i giocatori finiti KO costringe in realtà la società a trovare soluzioni alternative. Se poi a questo si aggiunge che ci sono giocatori troppo poco utilizzati che vanno indirizzati altrove, si capisce come di fatto il club friuliano debba rimanere vigile. Da tempo si parla del bisogno di rinforze in attacco, reparto che rimarrà ancora per un paio di mesi privo di Theodor Cic e che starebbe per perdere anche Felipe Viseu, che l'udinese sta trattando con il gremio. Sono soprattutto due i nomi che Radiomercato suggerisce in entrata per l'udinese, Marcello Trotta e Diego Falcinelli, due giocatori ben noti al tecnico Davide Nicola. In particolare il primo è in scadenza di contratto con il Sassuolo, dove con De Zerbi non sta trovando spazio. Pare che per lui sia in pole proprio l'udinese. Quello di Falcinelli è un profilo che già in passato è stato costato all'udinese. Che sia la volta buona? Le ultime parlano anche di possibili nuovi arrivi mediana, laddove l'udinese deve continuare a fare a meno di Badu e potrebbe rinunciare a Pontisso e Balic, due giocatori comunque utilizzati pochissimo finora. Forse per questo è stato fatto il nome del centrocampista bosniaco in forza al Konia Sport, Amira Ziametovic. Il nazionale Under 21 avrebbe tempo per inserirsi nel nostro campionato. Più pronto invece sarebbe Marcus Rodien, anche lui vecchia conoscenza di mister Nicola. Anche qui siamo sempre solo al campo delle voci. Da domani però si farà sul serio con il via alle ufficializzazioni dei contratti sottolineati. Siamo in chiusura, ma rimanete con noi. C'è l'approfondimento con a voi la linea. Alessandra Salvatore in studio. Si collegherà con Paola Treppo per le ultime novità, le preparazioni dei Pignarul. E poi da Pordenone con Daniele Micheluzzi. Il tema è la fatturazione elettronica. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.